La tredicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta da Yancordile Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Allora, il premio è Studio Professionale dell'Anno Consulenza Tributaria, Ambito Societario e Aziendale. And the awards goes to Studio Parente. Un applauso. Per essere uno studio di consulenza di eccellenza e di successo specializzato nella pianificazione fiscale e strategica, a supporto di aziende che operano nel territorio nazionale e internazionale, per la crescita esponenziale registrata negli ultimi anni, che dimostra l'impegno e la professionalità del team. Complimenti a Studio Parente. Grazie. Do il benvenuto a Italo Parente, titolare dello Studio Parente. Benvenuto. Grazie, benvenuto. Questa sera la vostra realtà è stata premiata come Studio Professionale dell'Anno Consulenza Tributaria, Ambito Societario e Aziendale. Ecco, le chiedo un commento a questo prestigioso riconoscimento. Beh, è sicuramente un riconoscimento che ci riempie comunque di gioia, di grande soddisfazione e ce lo prendiamo anche con grande orgoglio, anche perché poi diciamo che da una parte probabilmente, come posso dire, certifica un attimino quello che stiamo facendo e da un'altra parte ci dà l'incentivo a poter fare sempre di più. Ci tengo in particolar modo anche perché questo poi è un riconoscimento che secondo me va condiviso un attimino con tutti i collaboratori, anche perché ci sono io qui, ma è importante riconoscere che diciamo appunto se io sono qui il merito anche di tutti loro. Ecco, tra i vostri punti di forza c'è sicuramente l'innovazione digitale, sia al fine di semplificare che anche ottimizzare i processi organizzativi. Le chiedo, come si traduce questo valore nelle soluzioni che proponete ai clienti? Guardi, io ritengo che l'innovazione digitale sia uno dei punti da cui un'impresa, un professionista debba partire per lo sviluppo della propria attività. Noi quindi abbiamo sempre investito in soluzioni che andassero in queste direzioni, tant'è che ci stiamo anche approcciando a degli strumenti di intelligenza artificiale da introdurre all'interno dello studio, questo perché ha portato dei benefici enormi sia da un punto di vista dell'organizzazione, della diminuzione dei carichi di lavoro, della celerità nelle risposte anche con i clienti e il tutto poi si riduce in un beneficio per lo studio che è anche in un aumento della redditività. Ecco, le chiedo infine quali sono i vostri servizi di punta e anche quali progetti futuri avete in cantiere? Noi nasciamo come uno studio tributario con una particolare specializzazione per la pianificazione fiscale e lo sviluppo aziendale. Tra tutto cosa facciamo? Cerchiamo di ottimizzare quella che è la pressione fiscale delle imprese e quella che è di migliorare la marginalità dell'azienda in un modo diciamo programmatico, in modo diciamo circa 12 mesi cerchiamo comunque di prevedere quelli che saranno i risultati futuri in modo tale che l'imprenditore quando arriverà diciamo a chiusura non sarà tra virgolette, non avrà sorprese su quello che è stato tra virgolette l'andamento, ora tranne qualche scostamento ovviamente. Quindi questo è stata la prima diciamo il primo, quella che è la nostra diciamo specializzazione. Negli ultimi due anni abbiamo introdotto tutta un'altra serie di servizi tra i quali la finanza ageolata, la finanza alternativa, gli adeguati assetto organizzativi, la finanza bancaria che sono stati tutti una serie di strumenti grazie anche a una serie di accordi con dei partner commerciali che ci hanno permesso comunque di fornire una consulenza globale alle imprese e quindi con un ritorno diciamo a livello di studio non indifferente. Bene, la ringrazio e mi congratulo ancora per il vostro riconoscimento. Grazie, buona serata.